Buon pomeriggio amici ascoltatori e ben trovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma ultimo turno del 2021 per la sedicesima giornata di Serie D Girone F il Trastevere ospita il Chieti Calcio trova Crescenzo, dribbling del numero 8 e fa secco un avversario poi mette in movimento Fioretti, il pallone verso San Nipoli il dribbling, il destro e il vantaggio del Trastevere Daniel San Nipoli fa 1-0 sempre bandierina alla destra rispetto alla porta di Forti arriva il cross sul primo palo, deviazione sul palo e poi Corsetti la alza, ha rischiato il clamoroso autogol con sorte davanti a sei Mariani, al centro Fabrizi cercato proprio il numero 9 poi il pallone invece intercettato, attenzione a Orlando Mariani sventaglia questo cross, colpo di testa, arriva il pareggio del Chieti inserimento di Luca Fabrizi che fa 1-1 Pietrantonio, vuole mettere il cross, arriva adesso la spizzata di testa e la doppietta di Luca Fabrizi che proprio sul finire del primo tempo ribalta la gara 2-1 che però viene subito chiusa da Giordani che in palleggio fa secco Orlando ancora il numero 6, finta di lancio, poi Cervoni, ancora lo scambio arriva adesso il cross sul secondo palo, il sinistro e c'è subito il gol del pareggio del Trastevere con Fioretti a intercettare, Monni col fisico, bravo Mele e poi con sorte attenzione al pallone però, sbagliato, regalato a Corsetti, può attaccare mette dentro verso Macri, forti e il pallone fuori in favore del Trastevere prosegue l'azione intanto Macri che va via a due avversari ancora Macri, vuole calciare, lo fa adesso, sul fondo clamorosa occasione battuta profonda, Macri Corsetti ingresso in aria, ancora Corsetti si allarga, poi calcia, forti la sfera che rimane lì, il tocco e poi il salvataggio sulla riga, aveva quasi segnato squersanti pallone ancora del Trastevere, col centro del campo con Macri c'è un giocatore a terra, ma il Trastevere attacca Corsetti, limite dell'area, Aquilanti mette fuori Crescenzo spara, forti para San Nipoli, splendidamente, resiste all'attacco di Susi poi Monni la gira bene, attenzione a squersanti in area di rigore, arriva il cross, dall'altra parte Corsetti dall'altra parte si duella, ancora Monni protagonista con questo colpo di testa che serve Crescenzo poi serie di passaggi, lancio di San Nipoli Corsetti, questa volta la bandierina rimane giù può andare a sfidare Aquilanti, la sposta sul mancino il cross, c'è da Crescenzo, poi Squersanti passa il Trastevere Ivan Squersanti 3 a 2 all'ultimo respiro Mele, ma non c'è più tempo esulta il Trastevere che vince 3 a 2 sul Chieti in una gara molto emozionante che c'è più tempo